Perché se è una questione di legalità e posso assolutamente essere d'accordo perché il lavoro nero va combattuto sia se viene fatto a scapito dell'immigrato sia se viene fatto a scapito del cittadino italiano. Però è evidentemente legato anche a un fenomeno di cattiva gestione dell'immigrazione perché il nostro paese, ma ce lo vogliamo ricordare, è un paese con 3 milioni di disoccupati, con i giovani che non riescono a trovare lavoro. Allora, se abbiamo un problema di lavoro, un paese serio attrae l'immigrazione che serve, l'immigrazione utile, necessaria allo sviluppo e la crescita del paese, non immigrazione totalmente fuori controllo, che crea situazioni di disagio, tensioni sociali, che crea un scontro che non va legalizzata, va assolutamente controllata, scappi dalla guerra al sacrosanto diritto di poter essere accolto. Ma la legge Rossi Fini non prevede quello che dice lei. Assolutamente sì, scappi dalla guerra al sacrosanto diritto di poter essere accolto. Altrimenti passa un principio di immigrazione di ripopolamento, utilizziamo l'immigrato come processo di sostituzione di popolo.